...tantissimo tempo residente all'unità di Cacivio che peraltro mi permetterei di dire io stavolta di fare un applauso perché ci sta aiutando a me, a me da tantissimo tempo a questo interiore lavoro. Allora sta dicendo mi avete tirato in mezzo, io stavo tanto bene laggiù in fondo, ma perché? Perché mi avete chiamato? No, niente, solo voglio ringraziare, ringraziare ma stai fermo. Grazie, va benissimo. Sono rari, grazie, quindi anche solo un grazie detto col cuore vale più di mille parole, quindi grazie a te. Grazie a me, più grande. Eccoci allora.